Il mondo è un po' di nero Alla fine, dove lo tenete? Ah, e quindi? Allora, noi qua l'una abbiamo finito, però per scendere c'è sempre l'una e mezza, e quindi voi mangiate, mangiate, infatti mangiate e mi prendo un paninetto a fare il volo. Alle 18, vabbè, sei stambicciato, per il fatto della palestra, no, oggi è santo, ma che fa una volta la giustifica se non si incastra tutto il mondo, vai, vediamo qual è il più importante. Ma quando questo? Stasera? Non lo so, vediamo, 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 vediamo. Domani sta pure mia mamma, dovrebbe starci, siamo in giro, eh, 4 o 9, tua mamma è 5. Viene solo tua mamma, sì? Ah, no, 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 pensavo magari qualche cosa, va bene. Ascolta, ti devo lasciare, se no mi precipito qua che sto arrivato sopra. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao.